L'economia italiana nel 2016 crescerà a un tasso dell'1,2%, in accelerazione rispetto agli ultimi 12 mesi, ma con un ritmo ridotto rispetto alle precedenti indicazioni del Governo. È quanto prevede la bozza del documento di economia e finanza, il DEF, all'esame del Consiglio dei Ministri in questi minuti. Il contesto economico è sempre problematico, ma il Governo prosegue, seppur a rilento, il processo di miglioramento delle nostre finanze pubbliche. Sia il debito pubblico che il deficit sono previsti in leggero calo rispetto al 2015, rispettivamente al 132,4% del PIL e al 2,3% del PIL. Questi piccolissimi passi avanti sono possibili soprattutto grazie a privatizzazioni di aziende e vendite di proprietà immobiliari dello Stato. Nella legato alla bozza del DEF si legge che le modalità per l'alienazione di una quota fino al 49% dell'ENAV sono già state fissate e che altre operazioni verranno attuate in corso d'anno in funzione degli obiettivi di bilancio. La privatizzazione delle ferrovie dello Stato, invece, verrebbe rinviata. Capitolo lavoro. Per accelerare la crescita economica in arrivo un super bonus tra i 3 e i 12 mila euro per le imprese che trasformano i tirocini in assunzioni con contratto a tempo indeterminato. L'incentivo è per i datori di lavoro che assumono un tirocinante di età compresa tra i 16 e 29 anni nell'ambito del programma Garanzia Giovani. Per aumentare la produttività si dà sempre più importanza alla contrattazione aziendale rispetto agli accordi sindacali nazionali. Infine, a completamento del Jobs Act, l'Agenzia per le politiche attive del lavoro e l'Ispettorato del lavoro saranno pienamente operativi in corso d'anno.